Guardate qui, sono qui per aiutarvi, eh! Non so che mi sembra! Tu sei morta! 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 Che succede qui? Cosa mi sembra? Non lo so! Non mi permiso, sei una buonissima! Adesso lo va tutto per me calma, solo questo! Non lo faccio qui! Non lo faccio qui! Si dà l'artatà di ibah! Torna... Lo faccio di me ha dato questo! Tu sei morto? No, la mia proprietà! Si la mia proprietà è stata questa! No, tu sei morto! Quindi... No, è stato qui! Questa che ora è stata qui? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.